Ebbene sì, ebbene sì ragazzi, signore e signori devo ammettere che io, il sottoscritto, in maniera molto modesta, sarò al Romics venerdì, venerdì, e voi direte, sti cazzi, cioè se io vado a Romics, vado per Dread, no, per te, sì, però, volendo, io comunque sarò lì, quindi se volete, potete fermarmi per, quanto cazzo me la tiro? Potete fermarmi per una foto, ma chissà un VIP, no, sono un cogliore, sì, lo so, sono un pirla, però, beh, volevo dirvi, alla fine, semplicemente questo ragazzi, se volete, so che chiaramente se andate a Romics ci andate per Dread o me la godo, o comunque per farvi i cazzi vostri, io comunque ve lo dico, non mi dispiace, non mi date nessun fastidio se volete cambiare quattro chiacchiere, ci sarò praticamente tutto il pomeriggio, nel senso che vado lì, appena esco da scuola, quindi, io asco alle due e un quarto, penso, andandoli col treno arriverò verso le tre, spero, non succederà mai, comunque indicativamente dalle tre e mezza fino alle otto, fino alle venti, fino a quando restano pure gli altri simpaticissimi youtubers, quindi, niente, volevo appunto comunicarvi questa cosa molto rapida, come vi ho già detto siete i benvenuti, e quindi, niente, ragazzi, io vi saluto, volevo darvi questa comunicazione, domani uscirà, o oggi, pomeriggio, o domani, o stasera, uscirà il nuovo video di carriera, per gli altri video non so dirvi nulla, comunque, niente, buona giornata di scuola a tutti. Musica 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 Grazie a tutti.